Bella, è una pseudomonografia in cui analizziamo ogni film di Spielberg e poi facciamo un resoconto generale su sua carriera, cronologicamente, partiamo dal primo. Allora, lui parte nel 71 con Duel, che è un film per la tv, che secondo me è fiero, anche se ovviamente non è ancora... Beh, contando il pubblico qui rivolto è fiero. Ah, vabbè, molto fiero, però non lo metterei forse neanche in una top ten di Spielberg. Ma no, vabbè, ha fatto così tanti film di livello. Appunto, però è comunque fiero. Sì, sì, è fiero. Come primo film, come primo lungometraggio, perché comunque ha fatto tanti cortometraggio che ha fatto prima, low budget, però come primo lungometraggio veramente si capiva che ci sapeva già fare. Sì, 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 esattamente. Si capiva già. Poi l'idea di base è geniale, secondo me, cioè è fantastica. Questo qua che viene inseguito da un camion e l'autista del camion non si vede mai. Per tutto il film è questo qua inseguito da uno sconosciuto su un camion. Sì, 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 concettualmente è veramente una figata. Cioè, è semplice. Nolan impara. No, veramente, è una semplice... Io probabilmente il 26 vado a vedermi Tenet appena esce. No, vado perché... No, perché... No! No, è senso. No, uno perché voglio andare al cinema, porco Dio, se non ci sono altri film. Perché probabilmente aprirà con Tenet e After 2. Onestamente After 2 non me lo voglio vedere. Non ho visto anche il primo perché non voglio perdere tempo. Cioè, con Nolan perdi tempo. Però... Appunto, anche Nolan ha perdito tempo. Però... Però comunque, almeno... Cioè, ok, questo è il film, tutto quello che abbiamo già detto cento volte. Però... No, siamo proprio di non anche spingere. Fa culo, fa culo, non basta. Andiamo un attimo spingere. Poi... Secondo film. Secondo film, Sugar Land Express del 74, che... È figo. È figo. Mi piace abbastanza. Però ti lascia un po'... Sì, non è... Cioè, è un film mix. Era ancora acerbo. Bello. Vede che... Bello, però non ti lascia onestamente niente. Esatto. Come i film di Sofia Coppola. Cioè, non è un dissing. Esatto. Però è per dire. E da lì, infatti, Sugar Land Express, sembrava che Spielberg si volesse dedicare ai road movie, no? Sì, sì, sì. Duel, Sugar Land Express, tutti i film con le macchine. Sì, sì, ma sono dei bei road movie entrambi. Sono dei bei road movie, però sembrava che... Grazie a Dio poi... Grazie a Dio poi non ha fatto quello. Appunto. Poi, infatti, nel 75, proprio per cambiare l'opinione, ha fatto Lo Squalo che, insomma... Vabbè, io sono abbastanza... non mi piace eccessivamente Lo Squalo. Ah, anche a me, in realtà. Ammetto che è un film della Madonna. No, devo andare a fare esagerato. Un filmone. È un ottimo film, senz'altro. Soprattutto per quei tempi. Cioè, concettualmente, comunque, il soggetto interessante. Sì. Poi, a me non piacciono quei tipi di film lì, però ammetto che comunque è un ottimo film e fino a quell'anno lì è il migliore di Spielberg, ovviamente, meglio dei road movie. Sì, 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 assolutamente. Cioè, un regista che al terzo film ti fa Lo Squalo, già lì capisci che c'era. Sì, già capisci. Sì, 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 sì. Poi, comunque, è stato tipo il primo blockbuster estivo, perché quella volta non uscivano in estate, invece lì è stato... l'ha uscito in estate. Sì. È fatto un successo della Madonna. E per le spiagge le hanno chiuse. Cioè, è stato registrato un calo di bagnanti quell'anno pazzesco, per colpa di quel film lì. Però film pazzesco, veramente. Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, pazzesco, bello, molto bello. Anche lì lo metterai forse in decima posizione in una top 10. Non saprei. Forse. Però comunque bello. Sì, 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 ok. Narrativamente, poi, c'è stato L'Orca Assassina, Lo Squalo 2, Lo Squalo 3, Lo Squalo 20. Ha influenzato tantissime pellicole. Ha influenzato tantissimo, però quello resta tipo l'unico decente. L'unico bello, uno dei pochissimi. Verissimo. Subito dopo, 77 incontri avvicinati del terzo tipo, che anche quello è un filmone cult. No, quello oltre ad essere un cult, secondo me, è anche un film della Madonna. Non so se è un capolavoro, ma comunque sicuro è una perla del genere. È una perla, assolutamente. È veramente, veramente bello. Sì, narrativamente pazzesco. Sì, concettualmente è lo stesso, anche a livello tecnico niente da dire. Esatto, a livello estetico anche quello ha influenzato un botto. Sì, quindi... Poco da dire, cioè. Sì, sì, poco da dire. Nel 79 fa il suo primo flop, che è 1941 Allarme a Hollywood, che è... Robetta. Una robetta, esatto, su cui non mi soffermerei neanche tanto. È un flop e... Ma è stato un flop anche di incassi? Sì, 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 di critiche e di incassi. Cioè, un... Cioè, di critiche, immaginavo, sembra di incassi, magari... Un medio flop, non proprio disastroso, però abbastanza un flop. E lui gli dice che gli ha insegnato molto, perché ha capito che lì doveva impegnarsi. Sì, beh, infatti vedi che i filmoni tira fuori dopo. Esatto. Quindi, va, ben venga. Esatto. Nell'81, I predatori dell'arca perduta, cioè... Uno, allora, lo dico tranquillamente, vabbè, non sono troppo ferrato sul genere avventura, però tranquillamente questo qui si può non avere tra i migliori film d'avventura della storia. Sì, assolutamente. Tranquillamente. Anche se io preferisco il terzo. Quello è il terzo? È l'ultima crociata. No, io preferisco l'arca perduta, però al secondo posto l'ultima crociata. Sì. E comunque sono entrambi... Sì, due film pazzeschi. Sì, due film di avventura assurdi. Assurdi. Tecnicamente ottimi, concettualmente ottimi, recitati bene. Veramente, sì. Narrativamente regge tutto. Regge tutto. Quindi... Si, concettualmente ha lanciato... Cioè, il personaggio di Indiana Jones che è tipo... Una bomba. Una bomba. Sì, che è caltissimo. Appunto. Niente da dire. Niente da dire. Nell'82 è Tile extraterrestre. Un altro calt della madonna. Sì, che io non... Posso dire, a me quel film lì, concettualmente, è figo. Sì. Però, secondo me, poteva essere gestito meglio... Boh, sì. Cioè, è bello ed è un classico, però non è sto filmone. No, sì. Come lo dicevo. Sì, 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 no. Cioè, l'ho visto in realtà anche poche volte. Cioè, non è uno di quelli che mi viene voglia di rivedermi. No, no. Cioè, è una cosa più indirizzata forse per i bambini. Sì, i bambini, i ragazzi. Sì, sì. Beh, comunque, non togli se è un bel film, è anche un classico. Esatto. Effettivamente ha influenzato, cioè, l'immagine della luna con la bicicletta. Sì, vabbè. Hai detto tutto. Sì, 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 sì. Quindi, eh. Poi, nell'84, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che è il capitolo non il più debole dei quattro. È carino. È carino, meno degli altri due. Beh, sì, sì, senza altro. Meno degli altri due. Però, comunque, regge. Cioè, il livello è comunque alto. Sì, sì, è abbastanza alto. Sì. Il colore viola, nell'85. Vabbè, cult, eccezionale. Eccezionale. Anche un capolavoro, oserei dire, come film. Sì, capolavoro non so, però comunque sicuramente quasi. Quasi, semi capolavoro. Sì. Però comunque filmone. Sì, 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 assolutamente. Poi iconico e tutto. Sì, e lì si vedeva che Spielberg stava ingranando bene come regista, proprio. Poi, nell'87, L'impero del sole, che... Ci sta, ma io non lo ricordo eccezionale. Ma... Mi sembra che ci sta, dici, ci stava, carino, però non è che dici filmone. Sì. Quello, io mi ricordo così, poi non lo vedo da un secolo. È un bel film. Diciamo che è... Io preferisco, sinceramente, tutti quelli che ha fatto dopo. Cioè, questo è tipo il primo periodo ancora di Spielberg. Cioè, gli anni 70-80. Beh, comunque c'è della bella roba anche qui. Sì, c'è roba molto bella, però comunque preferisco l'89. L'89 è il suo periodo d'oro. Assolutamente. Infatti, che comincia, secondo me, il suo secondo periodo con Indiana Jones e l'ultima crociata nell'89. Sì. Film epocale. Beh, io preferisco l'arca perduta, però forse questo qua è il suo migliore Indiana Jones. Sì, non so. Però, oggettivamente, io oserei dire che oggettivamente, a livello narrativo e di gestione dei personaggi, questo è il migliore. Sì, probabilmente sì. Perché c'è la figura del padre, tutto è gestito da Dio, anche i tempi comici, le sequenze d'azione. Sì, 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 probabilmente è meglio, a livello oggettivo è meglio. Ci sono più cose rispetto al primo. E sono anche gestite meglio. Esatto, secondo me sì. Sì, 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 quindi forse è meglio questo qui. Secondo me sì, è un film della Madonna, veramente, io non mi stancherò mai di vederlo, cioè è uno dei miei film preferiti in generale, proprio. Beh, sì, giusto, giusto, beh, è un filmone comunque. Sì, 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 proprio gestito da Dio, le sequenze d'azione, soprattutto quella finale, quei carri armati, Madonna. Dio, Dio, quella lì, cazzo. Madonna. Quella lì è veramente, è una sequenza potentissima. Madonna. Poi c'è Always Per Sempre nell'89, che è un film minore di Spielberg, non so se te lo ricordi. Ho un ricordo abbastanza vago. Cioè, mi ricordo che non faceva schifo, ma non è che... Esatto, è lì. Cioè, forse il film di Spielberg ho apprezzato meno, oltre al 1941, probabilmente questo. Non dico che sia brutto, non è un brutto film, però dici che... È lì. È lì. Sì. Stan, lì. Esatto. Non dà fastidio, perché non è una merda, però neanche non avere i tre migliori. Esatto, esatto. Cioè, vola a basso, che tra l'altro è un film che parla di aerei, però... Cioè, sta lì. Sì, come hai detto tu, non è osceno, non è brutto. No, 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 per me lo dico, però lì... Anche è carina come idea, come concept. Sì, poi non è realizzato chissà co... Sì, non ha influenzato nulla. Penso che avesse anche un budget... Abbastanza limitato. Sì, rispetto ad altri film. Sì, sì. Sì, non ha influenzato nulla particolarmente. È una storia godibile se lo vedi. Ma sì, ma è uno di quei film che tutti i registi fanno per fare un film... Un po' riempitivo, tolto. Sì, riempitivo è la parola giusta, che non fa schifo, però... È lì. Non gli puoi dare nessun titolo. È lì. Cioè, è lì. Accettiamolo, basta. Esatto. Andiamo avanti. Poi c'è Hook, Capitano Uncino, nel 91, che è carino, secondo me. Wow, secondo me, non dico che sia per il target a cui è indirizzato, è perfetto. Sì, i bambini, i ragazzi. Se lo dobbiamo contestualizzare come film in sé, ci sta accettabile, niente di che. Sì, è per i ragazzini, i bambini. Però per il target a cui è rivolto è perfetto. È perfetto, sì, sì. Quindi, almeno per quello, non si può dire niente. Sì, 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 assolutamente. Poi io non lo vedo da un bel po' di tempo. Ma anch'io l'ho visto forse una volta, forse due, una quantità di anni fa in memoria. Esatto. Quindi, sì. Anche quello sta un po' lì, diciamo. Sì, 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 anche quello. Bene, siamo arrivati al 93, in cui esce... Al suo flop del... Il flop del millennio. Ovvero Jurassic Park, che... Abbiamo già dibattuto, che oscilla tra l'uno e mezzo. No, no, no. Che oscilla tra il nove e il nove e mezzo, come film. Esatto. Che, secondo me, resta il miglior film di Steven Spielberg, assolutamente. Probabilmente sì, onestamente sì, penso anch'io. Non solo come incassi, proprio come qualità. Non dico il mio... Non so se è il mio preferito. Per me sì. Beh, top 3 è sicuro dei miei preferiti. Boh, ma anche forse è il mio preferito, non lo so. E beh, è un film della Madonna. È un film della Madonna su cui io potrei parlare per ore e ore. E infatti faremo un video in un futuro che durerà probabilmente 40 minuti, se non un'ora, in cui ci scrive un po' di cose senza andare a caso. Esatto. Per adesso diciamo che è il miglior film di Spielberg, uno dei migliori film degli anni 90, comunque, possiamo dire anche in gener... No, però in generale... Beh, Dio... È esagerato. No, io lo direi. Tu lo diresti, io non lo direi. Io lo direi. Beh, comunque è un film della Madonna, è un capolavoro, non c'è letteralmente una cosa sbagliata in quel film. Esatto. Non è invecchiato zero. Non è invecchiato, non è invecchiato mai. Cioè, rendiamoci conto che è più invecchiato mai la Jurassic World 2 che Jurassic Park. Ma Jurassic World è nato morto. È nato vecchio. È nato vecchio. Ben già mi imbatto. Sì. Più caro. No, sì, sì, sì. È film della Madonna, cioè non c'è poco a dire. Film della Madonna. E dove c'è l'uso, la CGI. Migliore di sempre. Sì, penso... Migliore di sempre. D'accordo, di solito non voglio... Sti assolutismi non mi piacciono, però in questo caso posso essere d'accordo. La gestione degli effetti speciali migliore che io abbia mai visto in un film. Sì, sì, sì. A mani basse proprio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi vabbè, miglior film di Spielberg. Sì, assolutamente. Tecnicamente e narrativamente. Sì, ma anche concettualmente. Anche concettualmente. Cioè, il soggetto di base è una figata, è geniale. Merito di Crickton, l'autore. Sì, sì, sì. Però comunque è una bomba, anche come sceneggiatura. Sì, ma mettere... Comunque voglio dire, bisogna... Ok, sceneggiatura è tutto, ma mettere in scena una roba del genere e farlo così da Dio, devi essere una divinità del cinema. Esatto. Esatto. Penso che il 95% dei registi avrebbe fatto un film mediocre o una merda. Invece Spielberg ha fatto un capolavoro. Esatto. Quindi Onora Spielberg. Esatto. Onora Spielberg. Che è uno dei... No, lo diciamo alla fine questo. Ok. Cioè, appunto, mettere in scena una roba così colossale. E farlo così bene. Narrativamente complesso, comunque. E non farlo sembrare una minchietta atomica. Cioè, è come un... Non so, una struttura titanica che sta su, tipo sorretta, proprio... Sì, 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 sì. Cioè, che bastava una minima roba per farlo sembrare una minchiata atomica. Sì, sì, sì. Invece da Dio. Io lo ritengo superiore a Schindler List. Allora... Io lo ritengo superiore a Schindler List. Allora, beh, onestamente, penso che tu abbia ragione. Perché... Allora, Schindler List... Ne parliamo dopo. Sì. Però comunque sono... Adesso. Sì. Ne parliamo adesso. Boh... Ce ne sono altri di mezzo. No, no. Ha fatto Jurassic Park e Schindler List in contemporanea a lui. Ah, ok. Quindi una doppia divinità. Schindler List è un film concettualmente fatto... Cioè, è un film della Madonna. È un capolavoro. Però non ha la... Secondo me non ha la... Quasi onnipotenza tecnica di Jurassic Park. Per quanto sia narrativamente fatto benissimo, recitato da Dio e concettualmente, vabbè, ovviamente perfetto. Secondo me non è colossale come Jurassic Park. Esatto. È il suo secondo miglior film, secondo me. Probabilmente. Sì, può essere. Probabilmente è il suo secondo miglior film. E io sono sempre stato combattuto su quale mi piace di più tra Jurassic Park e Schindler List. Però... Io non ho dubbi. Beh, sì, tu, ok. Però penso che Jurassic Park... Ma tipo, cioè, Jurassic Park per me è un 9 e Schindler List è un 9 meno. Sì, sì, sì. Sono su un livello eccezionale entrambi. Sì, sì, sì. Assolutamente. Poi Schindler List, aggiungo anche che, secondo me, ha un concept di base che lo facilita rispetto a Jurassic Park. Sì, perché... Perché provo a fare un film sui dinosauri e non farlo sembrare una cazzata. Sì. C'è solo Jurassic Park. Invece fare un film sull'olocausto... Ce ne sono di più. Ce ne sono di più, beh, perché... Facile. Ce lo faccio anch'io un film sull'olocausto. Oddio, facile. Filmo un treno, filmo Trenord che va a Pordenone, ci aggiungo il fumo sopra in CGI, ho fatto l'inquadratura su... Sì, beh. Poi, ovviamente, Schindler List non è questo. Cioè, è un film rumore della Madonna. Però ha una facilità di base. Sì, sì, beh. Ovviamente il soggetto di base, essendo una cosa realmente esistita, avevi qualcosa da cui attingere. Esatto. Sì, 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 sono d'accordo. E soprattutto, cioè, è una cosa che ti basta poco per farla apparire una figata. A livello comunicativo. Sì, 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 sì. Quindi, però, resta un film rumore della Madonna. Sì, sì, sì. Poi cosa abbiamo? Poi, lui si prende una pausa di quattro anni e poi nel 97 fa uscire Il Mondo Perduto Jurassic Park, che secondo me resta il miglior sequel di Jurassic Park di tutta la saga, anche considerando i Jurassic World. Vabbè, i Jurassic World sono una merda, ormai che Dio. Il 3 fa schifo anche. Fa schifo. Il 2 è fiero. Il 2 è fiero, cioè, è inferiore al primo. Beh, chiaramente. Però comunque è fiero, si fa guardare e non ci sono grandi difetti. Onestamente. Esatto. Cioè. Prosegue bene. Sì. Era difficile, molto difficile fare, proseguire una storia così e non farla sembrare una minchiata di nuovo. E ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta di nuovo. Vabbè, Anna Callie. Quindi, appunto, parcatroi. Poi? Poi, Amistad, sempre nel 97, che è un po' un mattone. Non so se l'hai visto. Parla di schiavini. Esatto. Esatto. No, no. Come la discografia di Sant'Anna, più o meno. No, è un mattone come Uncle Meat. No, no, no. No, è un mattone un po' come una brava ragazza, ma non mi trovo a vomitare. Non so, un mattone. Un mattone come un disco di Dargen d'Amico, come ascoltare tutto un disco di Dargen d'Amico. In una botta. Eh? In una volta sola. In una volta sola. Sì, 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 sì. Ecco, così. Ok, quello sì, giusto, giusto. È tipo, toh, musica senza musicisti in una volta sola. Sì, 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 sì. Eh, quindi, però, però è comunque non è brutto. No, non è brutto. Una mattonata, però non è brutto. Esatto. Poi, nel 98, Salvate il soldato Ryan, che qua siamo a livelli, torniamo su livelli, secondo me, assurdi. Top 3. Top 3. Il terzo film del mio top 3, questo. Ecco. Cazzo, forse mi piace anche più di Shiller List, questo. Eh. Non lo so. Assurdo. Assurdo. Cioè, a livello... Ne abbiamo già parlato nel video, abbiamo fatto un video sui film di guerra, che probabilmente uscirà prima di questo. Ecco. Però, comunque, ne parliamo anche adesso. Sì, secondo me, un po', come si può dire, a livello di spessore è molto più sottile rispetto a Shiller List o rispetto ad altri film impegnati, tipo Il Colore Viola o L'Imperale del Sole. Sì, lo so, però la messa in scena è mastodontica, è colossale. La messa in scena è pazzesca. È colossale. È pazzesca. E anche, comunque, a livello narrativo è... Ineccepibile, 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 ineccepibile il filo d'oro. Dopo quello. Quindi, già solo quella scena lì di 20 minuti, che tra l'altro inizia, tu non conosci neanche i personaggi e quella scena dura 20 minuti e tu non conosci i personaggi e guardi una scena di 20 minuti eppure non ti annoia, non dici che cazzo sta guardando, cos'è sta cosa. No, 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 ma è assurda, cioè... È pazzesca. Veramente è onnipotenza registica. Sì, 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 sì. È proprio pazzesco. Niente da dire. E quindi poi, in generale, il film si regge da Dio, anche la battaglia finale assurda, tutto, anche la parte centrale, la ricerca. Cioè, lo twist, non è un plot twist, il finale, secondo me è perfetto il finale, è una bomba anche quello. Sì, 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 sì. Quindi... Lo twist che lui è, in realtà, è Ryan, sì. Pazzesco, sì. Nel 2001 esce Intelligenza Artificiale, che doveva farlo quel coglione di Kubrick e invece lo fa lui. Beh, era morto Kubrick. Appunto. E viene fuori un film che secondo me è bello. Bello. Però... Potrebbe essere meglio. Sì, esatto. Però è bello, bello. Sì, è bello. Me lo ricorderei volentieri. Esatto, si vede proprio che è Kubrick messo in mano a Spielberg. Cioè, è Kubrick di base, però si vede che c'è la mano di Spielberg comunque. Beh, devo dire che con tutto il rispetto per Kubrick è probabilmente il miglior regista della storia, ma... Ma Spielberg lo batte. No, non esageriamo. No, però Spielberg ha fatto bene. Sono contento che ci abbia messo in mano perché in mano a qualsiasi altro sarebbe venuta una cazzata. Esatto, sarebbe venuto un mattone, una cagata. Invece è venuto figo, quindi sono contento di abbia preso Spielberg. Esatto, è venuto fiero. Nonostante questo, nel 2002 fa uscire Minority Report, che è un altro suo film di fantascienza che vengono spesso accomunati, intelligenza artificiale e Minority Report. È vero, eh. Secondo me è meglio. Sì, 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 ma di netto anche secondo me. Narrativamente è allucinante. Sì, 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 ma mi piace un casino a me quel film, veramente bello. Pazzesco. Il concept di base ovviamente è tratto da un romanzo, come tanti suoi film. Sì, sì. Ed è una figata. Come l'ha messo in scena. Una figata anche quello. Pazzesco. Top 5 questo mio forse, sai. Anche mio secondo me, sì. Poi nel 2002 fa uscire un altro che è di netto in top 5 mia ed è Prova a Prendermi. Cazzo che film. Mamma mia. Quello lì è veramente, si discosta un attimo dalla roba che faceva lui. Esatto, è un po' più commedia drammatica. Sì, però funziona da Dio. Da Dio. Grazie anche agli interpreti c'è da dire. Esatto. Però funziona da Dio, è concettualmente, narrativamente, tecnicamente fatto da Dio. Esatto. Ed è un filmone. Esatto. Non so se è in top 5, ma comunque è al massimo in sesta posizione. Sì. Per me. Per me è assolutamente top 5. Non vorrei dire top 3, però top 5 sicuramente, sicuramente. Sì, sì, beh, ci sta, ci sta comunque il filmone. È un filmone della Madonna e lì si vede proprio, forse, è uno, non il primo, ma uno dei pochi, uno dei primi in cui Spielberg fa vedere come se la cava anche senza un budget della Madonna e senza cose tecniche particolarmente. Sì, è abbastanza semplice. È proprio semplice. Però è fatto benissimo. Si basa tutto sulla narrazione, praticamente. Ed è fatto da dire la narrazione. Ed è, mamma mia, bestiale, allucinante. Bestiale, sì, sì, d'accordo, d'accordo. A livello registico è allucinante quel film. Sì, sì, sì. Nel 2004, due anni dopo, fu uscire The Terminal, che è quello di Tom Hanks bloccato in aeroporto. Non so se ce l'hai presente. Sì, sì, ce l'ho presente, più o meno. A me è piaciuto tantissimo. Bello, bello. Mi piace veramente. Sì, sì, è piaciuto molto anche a me. Bello, bello. Una bomba, secondo me. Inferiore a prova a prendermi, inferiore ad altri suoi, non lo metto in top 5. Top 10 sì, tranquillamente. Forse top 10 sì, forse sì. 10 penso di sì. Sì. Beh, comunque ho fatto tanti film. Sì, infatti. Però sì, beh, comunque è abbastanza una bomba che determina. Pazzesco. Quindi interessante. Sì, 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 molto bello. Molto bello come ha gestito tutta la storia, proprio come l'ha raccontato, come sempre, ovviamente. È chiaro. Nel 2005 esce La guerra dei mondi, che è il suo primo film in cui gli alieni sono cattivi. È un remake del La guerra dei mondi vecchio, ovviamente. È chiaro e... A me piace. Tutti dicono che... Ecco, è quello che sto per dire io. Tutti dicono che questo film è una merda, ma secondo me... A me piace. Allora, non è sto filmone. No. È godibile, è tranquillamente godibile. Sì. E ci sta. È un bel film. È un film fatto bene. Esatto. Secondo me è proprio... Ci sono una quantità immane di film sugli alieni magari fatti meglio. Sì, sì, sì. Però è figo. Sì. Si può dire... Cioè, secondo me è tutti quelli che lo odiano, dicono insufficiente, fa cagare. No. No, assolutamente no. È un film fatto bene. Poteva essere meglio, chiaramente, però... No, sì. Cioè, nel senso... È interessante. Non lascia l'impronta di Incontri Avvicinati del Trezzo Tipo e DT. Ma avevano anche, nel senso, un... Però... Cioè, poi ovviamente è un remake, quindi già parte un po'. Sì, sì, sì. È un remake di un film colossale, riconosciuto, cioè, ricordato da tutti. Sì, ma aveva anche un intento diverso, Guerra dei Mondi, rispetto a E.T. e Incontri Avvicinati del Trezzo Tipo. Sì, 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 sì. Sì, perché poi E.T. e Incontri Avvicinati erano molto sul... Cioè, avevano anche il messaggio implicito di unione verso le strane o verso le strane. Sì, sì, sì. Invece qui... Qua è più... È più alla blockbuster. Esatto, è più un blockbuster. Ci sono gli alleni cattivi. Li dobbiamo distruggere. Sì, sì, sì. Questo è vero, è vero. Però narrativamente anche qua è... Buono, buono. È molto buono. Sì, 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 vero. C'ha delle sequenze anche qua allucinanti. Io la prima volta l'ho visto in TV, lo davano. Ah, sì, anche io in TV l'ho visto la prima volta. Bello, bello. Non sapevo che film fosse. Ho visto La Guerra dei Mondi. Ero abbastanza piccolo, è uscito nel 2005. Ho visto la prima scena e ho spento perché mi aveva traumatizzato. Qual è la prima scena? Non mi ricordo. Cioè, la scena quella del tripod che esce fuori. Ah, sì, sì, sì. Che comincia a incenerire tutti. No, quella scena lì è potenza visiva anche questa. Ovviamente non al livello di quella del Savate sulla Toraja. No, no, no. Però comunque è una scena... Potenza visiva, veramente. Iniziare un film così è un biglietto da visita assurdo. Assurdo. Cioè, mi ricordo che la particolarità di quella scena è che non c'è una musica pazzesca di sottofondo, una grona sonora. Cioè, è solo un... Proprio... Non te l'aspetti che sia così bassa la musica in quella scena. Sì, 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 sì. E quindi è pazzesca. Cioè, ti arriva proprio l'impatto, bam, con una sberla in faccia. Sì, 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 è vero, è vero. A me mi aveva traumatizzato, mi ricordo. Boh, a me non traumatizzato, ma mi ha lasciato abbastanza bocca aperta. Madonna. Poi l'ho visto tutto, è bestiale. Bomba, bomba. La scena, tutta la scena della cantina, che sono in cantina. Sì, sì, sì. Che dura un'infinità quella scena, ma è bestiale. Beh, sì. Bellissima. Infatti un po' mi dispiace perché quel film lì ha delle sequenze veramente fighe, però nel complesso non è così assurdo. Sì, non è. E un po' mi dispiace perché per rendere tipo le migliori sequenze poteva essere un film molto meglio. Esatto, secondo me non supera il sette e mezzo. No, no. Boh, per me è un sette, è un sette. Sì, sette. Però comunque si fa guarda tranquillamente. Esatto. È un bel film di fantascienza, chissà. Esatto, e tra l'altro in quella scena della cantina cita, cioè riprende un sacco la scena della cucina di Jurassic Park. Ah, sì, sì. È proprio bezzale. L'autocitazionismo grande. Sì, esatto. Nel 2005 sempre esce Munich, che è un film molto più serio invece, torna sul socialmente impegnato. Boh, secondo me quel film lì un po', non dico una mattonata, ma... È un po' una mattonata sul coglioni. Sì, è una mattonata sul coglioni. Però è un po' pesante. È pesante e narrativamente non l'ho trovato interessante, semplicemente. No, è più... quel film lì è più estetico che narrativo. Sì. E da Spielberg io onestamente, con tutto rispetto, non voglio film estetici. Esatto. Io se voglio vedere un film... Narrativamente coi controcazzi. Sì, da Spielberg voglio qualcosa concettualmente, narrativamente ottimo, non voglio qualcosa di estetico. Esatto, perché Spielberg è un racconta storia alla fine. Sì, diciamoci una verità. È un narratore. È un gran regista, appunto, per questo motivo qui. Esatto. E lì non me l'ha raccontata. No, non l'ha raccontata bene. Non l'ha raccontata bene. Purtroppo no. Ha raccontata un po' così. Sì, in effetti. Cioè, non è usceno, però... No, non è usceno. È da 6, non supera il 6. Comunque è un film ben fatto, ma basta, cioè... Esatto. Sembra un film di Nolan che non riesce a raccontare... No, non sembra un film di Nolan. Non però... Nel senso, non a livello come è fatto lo stile, ma che... Ha un po' un mattone. È un mattone e racconta di merda. È vero, è vero, sì. Anche se De Prestige è superiore a questo. Sì, vabbè, ma è inutile che... Se prendi il picco di Spielberg, il picco di Nolan... No, no, no. Nolan è che piange pieno di lividi in un angolino. Assolutamente, è lì che si fa le seghe nell'angolo. Sì. Chiaro. A proposito, Nolan, se vuoi imparare come fare un film, guarda Jurassic Park una volta, due volte, tre volte, finché non svieni. Porca troia. Perché ogni singolo aspetto è superiore. Cioè, il tuo picco tecnico è un decimo, di un decimo, di un decimo, di un decimo dell'idea di Jurassic Park. Neanche del film, dell'idea. Sì, 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 sì. Ridicolo coglione. D'accordissimo. Carciofo. Carciofo. Muori. Nel 2008 esce, forse, il film più brutto di Spielberg, che è Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Ben, allora, io ti dico, quel film lì è il peggior Indiana Jones, indubbiamente. È un film mediocre, indubbiamente. Però, secondo me, non è peggio di 1941. E in alcune parti le ho apprezzate, di quel film. Non nel complesso, ma alcune cose le ho apprezzate. Poi, ovviamente, è un film mediocre, che tende verso la merda, però, onestamente, non penso sia il suo peggiore. Dio. Allora, c'ha una fotografia aberrante. Sì, ha una fotografia fa da cagare. Fa da cagare. La CGI aberrante. Anche quella fa da cagare. Narrativamente è aberrante, secondo me. Oddio, non aberrante. No, non è aberrante. Mediocre. Tra il mediocre è molto... È molto mediocre, cioè, narrativamente, è da cinque. Ma non dico che sia un bel film, è tutt'altro che un bel film. È un film insufficiente, però, secondo me, non è il suo peggiore. Il 1941 mi ha stuccato molto di più di questo. Boh, sì. Perché penso più che altro perché sono affezionato personaggi di Indiana Jones. Se fosse stato queste caratteristiche qui in un altro suo film, l'avrei detto zero, vaffanculo. Ma visto che c'è Indiana Jones, capisci per quello. Sì, sì. A livello oggettivamente forse sia il suo peggiore. Però, cioè, cazzo... Ti be' rovinare così in una saga mi dà un po' fossile anche a me. Il personaggio di Indiana Jones lì è gestito di merda. Sì, 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 sì. Una storia veramente... Shia LaBeouf che è un coglione del cazzo. Io ogni volta che compariva la sua faccia... Ma in quel film lì, sì. Madonna. Madonna. Ma anche in trasforma... Tutti quelli che ha fatto... Beh, no. Ha fatto un film recentemente, cosa l'anno scorso. Come che si chiama? Non mi ricordo. Quello del tennista. Sì. Coso. L'ultimo uscito. Sì, sì. Non male lì, secondo me, ci sta. L'ho visto a pezzo. Non l'ho visto bene. Beh, comunque... Beh, il film... Non dico... Faccio una recensione qui. Però comunque lui non mi è sembrato male in quel film lì. Bah... Beh, è un attore nella media. Non è in internet. Sì, è un attore mediocre. Sotto la media in alcuni film tipo questo, però non è che faccia così cagare. Bah, sì. Ma che mi sta proprio sul cazzo. Ma no, ma ci sta. Lo vedo che è una testa di cazzo. Come Imagine Page, ci sta. Esatto. Come a me a Santana. Sì. Che d'altronde è anche un po' oggettivo. Come a Frank Zapp, ok. Sì, ma quello sei tu coglione. Uncle Meat Merto, sì. Ah, Dio, poi... Nel 2011... No, scherzo. Uncle Meat è un bel disco. Andiamo avanti. Anzi, il capo è la volpa, sì. Bravo. Nel 2011... Meno di G-pop, però. No, no, no! Ogni cazzo di volta si dice una cosa su Frank Zappa, vai, così. No, comunque, a parte cazzate. Ambi, ci ha partito di G-pop e Frank Zappa. Siamo qui per la radio con il fallito di spiglio. Frank Zappa, che siamo faccia di G-pop. Allora, nel 2011 esce L'avventura di Ten-Ten, che si riprende alla grande qua a Spielberg. Fighissimo quel film. È fantastico. È fighissimo. È la prima esperienza di Spielberg con quella tecnica, il motion capture. È però figo, cioè è venuto bene come prima esperienza. Fantastico, sì, sì, assolutamente. È godibilissimo quel film, scorre veramente un piacere. Sì, cioè visivamente è... Figo, molto figo. Figo, sì, sì. Tecnicamente... Sì. Pazzesco. Beh, narrativamente regge. Narativamente regge da Dio, è raccontata da Dio. E ci sono certe scene che tecnicamente sono assurde. No, tecnicamente è veramente bello, certe scene. Beh, in generale tutto il film, però certe scene spiccano. Esatto, esatto. Certe scene assurde che erano fattibili solo con quella tecnica lì. Cioè, perché c'è la macchina che fa... La macchina da presa che fa dei movimenti impossibili fisicamente. Sì, 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 sì. Tutta la scena tipo dell'inseguimento quando c'è il biglietto che vola via. No, non è il biglietto, è una piuma, non mi ricordo che cazzo è. No, no, è il biglietto. Era il biglietto. È il biglietto che svolazza via. Sì, 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 sì. E ci sono loro che... Lì, grande autocitazione a Indiana Jones, l'ultima crociata, col Sidecar. Madonna, autocitazionismo. Madonna, a go-go. Sì, sì, sì. Però ci sta di brutto. No, no, ma lo fa sempre bene quando lo fa. Esatto, ma c'è tutta quella scena lì che sono loro che scendono dalla discesa, in mezzo al paese, che finiscono tipo tra i palazzi, col coso, con la motoretta sui fili degli stendini, sempre con sto biglietto che svolazza in giro e vanno giù. No, pazzesco. Sì, sì, pazzesco, pazzesco, assurdo. Cioè, veramente, me lo ricordo veramente piacevolmente perché è il film della Madonna, secondo me. Sì, gran bel film. Sì, secondo me top 10 di Spielberg. Boh, top 10 non so, ma top 10 forse alla fine, nonno decimo posto. Boh, può essere. Però sì, 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 posso accettarlo. Sì. Poi cosa abbiamo? Were Horse, sempre nel 2011, che è anche quello, mi è piaciuto meno di Ten Ten, però comunque... A me è piaciuto, però secondo me non è così assurdo come film. Ma sì. Bellino. È bello, secondo me. Secondo me è da sette e mezzo. No. Sette, sette. Sette, sette. È più come la guerra dei mondi. Esatto, è a livello della guerra dei mondi. Cioè, molto godibile, molto, molto godibile. Poteva essere meglio, ma godibilissimo comunque. Esatto, non è un filmone, non si pone neanche l'obiettivo di essere un filmone. Eh sì, vero, vero. È quello. È una storia semplice, raccontata bene. Sì, come solito. Sì, esatto. Poi? Poi c'è quella mattonata nei testicoli di Lincoln nel 2012. Ma mattonata non... Cioè, è un biopic interessante. Bah, sì. Beh, lentissimo, ma chiaro. È lento come la merda, è lento come mia nonna. È lento come un biografico su Lincoln, non è che posso aspettarmi che esca per strada e uccida le vecchiette, scusami, nel senso Lincoln. Quello me lo aspettavo un po', dai. Beh, cioè nel senso il film... Se lo dirigeva Tarantino veniva meglio. Beh, certo. Il film è fatto bene, sì, boh, è un po' una mattonata perché è lento, però comunque Daniel Day-Lewis è mostruoso come ogni cazzo di volta. Sì, sì, ovvio, ha preso anche l'Oscar. Tra l'altro, aneddoto, questo è il primo film di Spielberg in cui un attore vince l'Oscar. Sì, incredibile perché ci sono state delle performance comunque ottime in tanti i suoi film. Peccato, vabbè. Tipo l'Oscar Schindler, Liam Neeson. Sì, Dio Santo, bestiale, bestiale. Però questo è il primo. Secondo me, sì, qua aveva cominciato un po' a incrinarsi Spielberg perché poi ha fatto una serie di film tutti basati su storie vere che sono delle mattonate nei coglioni quando lui ha sempre fatto robe fantasiosi. Però anche quelle in cui faceva su storie vere tipo Schindler List. Vabbè, ma Schindler List prendi uno dei suoi migliori film. Appunto, cioè narrativamente era sempre ottimo. Vabbè, ma non può fare tutti i film su quel livello lì, se no sarebbe... No, però cazzo Lincoln, veramente una mattonata nei coglioni. Ma secondo me... Narrativamente poco interessante. Beh, ma secondo me è un po' il stesso discorso che abbiamo fatto con Zodiac. Ah, boh. Cioè che io capisco che la gente si annoi e magari lo trovi anche... Non dico inconcludente, ma comunque che non arrivi a un punto specifico. Però bisogna anche... E questo è legittimo perché tu giudichi il film in base a quello che è. Però devi anche tenere conto che è giustificato, dato che se segue la storia vera, è giustificato. No, boh, sì, sì, ok. No, però è legittimo e sono d'accordo che è una mattonata perché è lentissimo il film. Esatto. Quello senz'altro, non me lo rivedrei assolutamente per niente, onestamente. Esatto, tre ore di film, figa, ma basta. Poi dopo nel 2015 esce Il Ponte delle Spie. Che secondo me è un bel film, l'ho visto al cinema. Tom Hanks sta bene... Allora, quel film lì poteva essere molto molto meglio. Ma la regia è buona. Il soggetto di base è interessante, è abbastanza carino, niente di eccessivo, eh. Poi la recitazione è buona, Tom Hanks veramente è un mostro. Oh, sì. In quel film anche, come in quasi tutti quelli che ha fatto. Poi sono d'accordo che narrativamente... Narrativamente io l'ho trovato tipo... Un po' forzato in alcuni punti. Sì, forzato, non scorreva bene. Però secondo me è un bel film. Sì, è un bel film. Narrativamente poteva essere gestito molto meglio. Esatto. Su questo concordo, però comunque... Esatto, cioè io dopo il 2012 erano tre anni che non facevo un film ed ero lì che aspettavo il prossimo film di Spielberg. Cazzo, esce finalmente il ponte delle spie, vado a vederlo. Cioè mi aspettavo delle aspettative assurde perché partivo che era un film di Spielberg. Non avevo aspettative assurde, avevo aspettative discrete e infatti è stato un bel film. Ecco, io invece sono rimasto un po' deluso perché... Beh, non ci sta, ci sta, sei più fan tu di me di Spielberg. Esatto. Avevo quelle aspettative atomiche e... Sì, 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 beh, come io con ogni film di Tarantino. Ecco. Rispettate sempre. No, no, seriamente ripeto sempre. E con Bastardi Senza Gloria che... Beh, quando ho visto Bastardi Senza Gloria dico, è una puttanata, sono dei coglioni e mazzanazzisti. Poi, detto, 5 stelle su 5 del film, non dici a niente, andiamo avanti. Vabbè, poi esce un'altra bella merda che è il GGG. Quella è una merda. È una merda. È una merda. Una merda. Cioè, poi, allora, io non voglio contestare lato tecnico queste cose qui, però mi ha fatto cagare, mi ha annoiato una mattonata, non voglio più rivederla. Esatto, cioè... Vorrei che scomparisse dalla faccia della terra. Della filmografia di Spielberg. No, veramente, cioè, lì, tra l'altro, lui stesso ha quasi ammesso che non l'ha fatto lui, quel film, in realtà. Ma quel film non è di Spielberg, cioè, possono anche farmi vedere che Spielberg era lì a fare le riprese, non ci credo che l'ha fatto lui. Ma sì, ma poi, ma lui ha proprio detto che ha dei collaboratori pazzeschi, assurdi. quel film lì era 99... cioè, 90% CGI, motion capture, così. Sì, sì, sì. Quindi, voglio dire, gliel'hanno fatto. Lui magari ci ha messo un po' mano qua e là, ma... Sì, ma roba poco. Niente di che. Da buttare. Sì. Poi? Poi ha fatto The Post. Che è un bel film e che sono ancora furioso con l'Academy, teste di cazzo. Avete mandato all'Oscar la Gerwig, perché non mi ricordo anche che film, queste quote rosa del cazzo, andate a fanculo, porco Dio. Questo è un bel film. È una stronzata, perché questo film era meglio di quello da Gerwig, perché mi ricordo che ero arrabbiato quell'anno, perché lo che gli Oscar sono più gossip che meriti. Lo sappiamo tutti. Però comunque mi fa incazzare che un film come The Post, che non è eccesso, però comunque è un bel film e Spielberg, secondo me, si è ripreso con questo film. Sì, 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 sì. E mi avete mandato un altro film che per quanto possa essere accettabile non a sto livello, non a Spielberg, la Gerwig non a Spielberg, quindi non rompete mica i coglioni. Esatto, esatto. Anche perché è sempre su quella scia dei film, secondo me, un po' mezze mattonate. Sì. Un po'. Tipo Lincoln. Tu l'hai visto JFK, un caso ancora aperto? No. Quello lì, secondo te, secondo me, tu lo reputi la più grande mattonata della storia, ma è uno dei miei film preferiti. Può essere. Perché dura tre ore e mezza, sono quasi solo indagini su chi abbia ucciso Kennedy, ma c'è un... cioè, ti giuro, Kevin Costner in quel film, non so se ha vinto l'Oscar, ma è veramente una divinità. Io Kevin Costner l'odio. No, beh, io non l'odio, cioè, mi piace abbastanza come attore, ha fatto delle belle cose, altre cose discutibili. Sì, tipo la pubblicità del Rio Mare. Perché Dio. No, ha fatto delle belle cose, altre discutibili, però in quel film lì, secondo me, è stato subumano. Cioè, subuano. Subumano. In senso buono, in senso inumano, scusate. Non subumano, tipo... Sovrumano. Sovrumano, non subumano. Subumantico mostro. No, ok, abbiamo detto sta roba sulla Gerwig, ok? Sì. L'ultimo film? L'ultimo è Ready Player One, che, porca troia, qua si è veramente ripreso, secondo me, è tornato a fare i film fantastici, cioè nel senso di fantasiosi, però. Sì, fantasy, ok. Fantasy, però. Sì, che non è fantasy, però... Ma so, ho capito, ho capito. Quella roba lì, non tratti da robe vere, eccetera. Sì. E secondo me si è ripreso alla grande, perché qua dà una prova di regia veramente figa. Sì, sì, sì. In certe sequenze si vede un po' meno la sua mano rispetto ai soliti suoi film. Sì, 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 sì. Un po' meno. Ma perché qui c'è tanto più... ci sono tanti più effetti rispetto ai sui soliti film. Appunto, c'è tanta più... cioè c'era la necessità di tanti collaboratori per un film così. Sì, 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 sì. Non solo a livello tecnico, pratico, ma anche solo per il concetto, cioè il fatto... Cazzo, sei... stai filmando uno che entra con una realtà virtuale in un mondo digitale dove può fare qualsiasi cosa, le leggi della fisica non ci sono... Cioè, come cazzo fai a farlo? Sì, è una roba difficilissima. È difficilissimo. Quindi anche concettualmente si vede che... È una bomba, porca troia. È una bomba atomica. In certe sequenze si vede che è un po' più anonimo rispetto ai suoi soliti film. Non c'è quella, sai, quella mano che lo vedi che è lui, che gli dice Cazzo, è geniale questa trovata qua. C'è un po' di meno, però comunque c'è la sua mano. Sì, sì. Ah, è uscirà un video... Ci ho messo un'ora per scrivere tutte le citazioni e i riferimenti di Rockplayer One che, come ha detto lui, giustamente, sono d'accordo. È un filmone. Si è ripreso la grande. È probabilmente il suo film migliore degli ultimi dieci anni. Oddio, dieci anni, no. Cos'è uscito? Scusa, tra il 2010 e il 2020. Ten Ten lo ritengo superiore. Boh, allora, vabbè, mettiamo Ten Ten sopra. Io ho preferito questo qui, comunque. Boh, sì. Però comunque, dopo Ten Ten, è veramente un film della Madonna. Concettualmente assurdo, visivamente assurdo. E sono contento che si sia ripreso. E devo dire che dopo questo qui mi ho fatto venire a Iper il prossimo film. Sì, assolutamente. Anche perché una cosa che ho pensato proprio adesso, in questo momento, mentre guardavo La Siepe, è che, cioè, è un film che punta molto alla cultura pop da nerd. Sì. Quindi anche, a parte i nostalgici degli anni 80, ma ragazzini, no? Magari, che ne so, ti aspetti che... Beh, però ci sono anche delle tante cita degli anni 60, 70, 80. Appunto, cioè, nel senso... Cioè, prende un po' tutti, prende un po' tutti. Tu ti aspetti che un film così fa VJ, uno come fa VJ, impazzisci a vedere un film così, sai? Quei nerd, magari anche adolescenziali, ragazzini. Però, cazzo, tipo, la scena in cui vanno nell'Overlook Hotel. Ah, vabbè, quella lì, quella lì. È una scena che cita, cazzo, un film che non è per ragazzini. Il più grande ora dei tutti i tempi, del più grande regista dei tutti i tempi, diciamolo. Più o meno. No, è così. Più o meno, cazzo. Però, comunque, cioè, nel senso, ho anche, per esempio, la... Il livello tecnico della sequenza iniziale della corsa delle macchine. Ah, sì, vabbè, quello lì. Con quello che è, in realtà, il film. Cioè, nel senso, è un film che sembra che punta molto sui ragazzini, ma poi, in una scena così, ti mette... Cioè, quella scena lì è totalmente priva di musica. Sì, sì, sì. Totalmente priva di musica. Tu vieni proiettato in questa sequenza in cui la macchina continua a girare. Sì, sì, sì. Intorno, va sopra, sotto, senza musica. Senti solo bam, bam, boom, bam. Cioè, rumori di qua e di là. Sì, 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 ma proprio... È una scena pazzesca che non è fatta per i ragazzini. Ma quel film lì ha target veramente molteplici. Perché ti prende i ragazzini, perché comunque ci sono anche diverse citazioni a... A cose... A videogame più o meno contemporanei. Esatto. Però c'è anche roba, tipo... Allora, non voglio spogliare tutte le citazioni adesso, però, tipo, quando nel visore gli arriva l'invito che scorre l'arcobaleno di Dark Side of the Moon. Ah, sì? Sì. Ah, sì, che tocca il coso, sì. Sì, quella lì, per dire, ovviamente. Poi, anche le cheat... Ah, non dico nient'altro perché spogliare l'altro video, se no. Però comunque ci sono tante citazioni anche alla cultura pop degli anni 60, 70... No, 60 meno, 70-80. Comunque non è roba per i ragazzini, cioè, diciamo. Esatto. Quindi prende molto più pubblico. Esatto. Cioè, quando... E lo fa anche bene. Quando dice del cubo di Zemeckis, io li stavo sbarrando. Madonna, madonna. Cioè, il cubo di Zemeckis... Cioè, ha citato un regista che, cazzo, un ragazzino che va lì e si gasa per gli effetti speciali non lo conosce. Cazzo, non l'ho messo nelle citazioni. Non l'hai messo. Porco Dio. Ecco l'ho aggiunto adesso. Tecca metterlo. Però, cioè, anche quella roba lì. Nel senso, perché poi anche come concetto, cioè, tutto... Loro che sono dei ragazzi, che fanno il gruppo, cioè, è molto... La trama basic è molto da adolescenziale. Sì, però è gestita molto bene. È gestita molto bene ed è condita da un sacco di queste cose qua che fanno alzare, in realtà, il livello di età. Sì, sì, sì. Ma non ti... Cioè, i protagonisti sono comunque adolescenti, più o meno. Ma non ti dà quel senso che sia un prodotto per adolescenti? No, esatto, esatto. E questo, secondo me, è la forza del film, oltre, vabbè, a livello tecnico ineccepibile. Esatto, perché c'è tutta quella mano di Spielberg che sa che, cioè, cioè, lui non avrebbe mai fatto un film per ragazzini. No, mai, non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto, cioè, anche quando fai film per i bambini, sono godibili anche dagli adulti, cioè, è inutile. Sì, tranne il GGG che è una merda. Esatto, tranne il GGG che è una merda atomica, GGG esplodi, porca troia. Cioè, veramente. Quindi, secondo me, è una bomba. E, non so, discorso finale su Spielberg. Vabbè, è un regista della Madonna, uno dei migliori di tutti i tempi, ha una filmografia assurda, ha al suo interno diversi capolavori, film dimenticabili come ovviamente tutti, tranne Kubrick. E, no, scherzo, anche Fincher, c'è qualcuno dimenticabile. E, sì, un regista della Madonna, tra i migliori di quelli che sono in attività, senza altro, e all'attivo ha veramente, ha una media di film buono, cioè, con tanto di film che ha fatto, ha una filmografia ottima. Sì, 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 assolutamente. Perché c'è gente veramente che ha fatto metà dei suoi film e ha floppato più di lui. Esatto. Quindi, già, il fatto, oltre, vabbè, alla bravura, alla tecnica, è tutta la costanza, soprattutto, perché dopo 50 anni che esce con film ancora buoni, dopo 50 anni... È assurdo. È veramente un mostro e... Come Ready Player One, cioè, tenendosi comunque aggiornato a livello tecnico, facendo sempre un passo in più. Sì, 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 dopo 50 anni, praticamente. Lui, cioè, è vecchio in culo, è Spielberg, cioè, ha 80 anni e passa. Sì, sì, sì. C'è la teata di mio nonno. Sì, 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 è vero, è vero. Poi, vabbè, oh, che gli vuoi dire? Cioè, ha fatto Jurassic Park, Scenderly, Il Soldato Ryan, Prova a Prendermi, E.T., Incontri Avvicinati, Lo Squall, cioè, li ha fatti tutti lui, cazzo. Tutti i film più famosi che... No, veramente, lui è probabilmente... Indiana Jones, ha fatti tutti lui. Lui è probabilmente uno dei registi, di ogni regista con più cult all'interno della sua filmografia. Sì, sì. Cioè, se avete soldato Ryan, tu hai detto, Dino, ma secondo me è un cult, senz'altro. Lo Squall, un cult, Scenderly, un cult, Jurassic Park, un cult. E... Boh, Prova a Prendermi, non lo definirei cult, però... No, però comunque è un filmone. Sì, è un filmone. E.T. è un cult assurdo. E.T. è un cult. Forse è il più cult di tutti, insieme a Jurassic Park. Esatto. Indiana Jones... È un cult, vabbè, di che stiamo parlando. È un cult. Incontri Avvicinati è un cult. Sì, beh, è un cult più nella nicchia della fantascienza, però comunque sì, è un cult anche quello. Sì. E poi il bello è che tutti... Cioè, tanti cult, tipo Fight Club, che abbiamo già detto, non sono eccezionali. Invece lui, il suo miglior film è un cult e questo è veramente una cosa assurda. È assurdo, è assurdo. Il fatto che il suo miglior film sia anche il più famoso e anche il più classico. Esatto. Quindi, Spielberg, sei un regista da Madonna e esci con un nuovo film e fallo bene, porco Dio. Spielberg ti succhierà il cazzo, anche perché, cioè, nel senso, oltre al regista, ma quanti ne ha prodotti? Ha prodotto un sacco di... ha prodotto anche qualche merda, però... Sì, sì, beh, ci sta. Cioè, ha prodotto Poltergeist, Gremlins, Igunis, Ritorno al Futuro... Robona, Robona. Fievel, tutti i cartoni di Fievel. Sì, ma Robona. Roger Rabbit. Cazzo. Alla ricerca della Valle Incantata. Madonna. Vabbè, Gremlins 2, bla bla bla, Cape Fear di Scorsese. Cazzo, Cape Fear, che film. Madonna, che filmone. Faremo una monografia di Scorsese, ma Cape Fear miglior suo film. Assolutamente, sono d'accordo. Lo diciamo, vero. Concordo di brutto. Ha prodotto Casper, Balto, Man in Black. Il primo. Il primo. Che bomba, il primo, Madonna. Anche il secondo ha prodotto, e forse anche il terzo. Ha prodotto... Lo sono bombe tutti e tre. Sì, Zorro. Cazzo, Zorro. Shrek. Boh, ma bomba dell'animazione. Però tipo, tutti i capo di vero animazione. Cioè, Transformers l'ha prodotto lui. Quale? Transformers, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Tutti, Dio Kahn. Tutti li ha prodotti, li ha prodotti tutti lui. Boh, che quelli sono blockbasteroni. Sì, però comunque, cioè, Super 8 l'ha prodotto lui, che è un film della Madonna, secondo me. Boh, Dio, della Madonna no, però... No, no, della Madonna no. Però dà, diciamo, le Etty vibes. Esatto. Quel film è un mix tra Etty, Incontri Avvicinati e La Guerra dei Mondi, se ci pensi. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo, è un mix buono. Esatto, infatti J.J. Abrams, cioè, tra l'altro, quanti registi sono influenzati da lui? Cazzo. Zemeckis è uno Spielberg 2.0. Sì, ma tantissimo. J.J. Abrams è uno Spielberg 2.0, più o meno. Più o meno, sì, vabbè, comunque prende tante cose Spielberg. Eh, Giodante. Cazzo, Giodante. Shyamalan. Boh, Dio, Shyamalan, secondo me, meno degli altri citati. Sì, però comunque... Shyamalan è un dio, posso dirlo. Shyamalan è un semi, Dio. Dopo tutte le puttanate che ha fatto. Qua, tipo? Lady in the Water. Non è una puttanata Lady in the Water. È una merda. Non è una merda. È una merda. Split è una merda. Cosa? Ma esci da questa macchina. Split è una merda. Split, porco Dio, cioè, veramente, James Mack e voi Oscar per quel film, Dio, porco. Split non è una merda. Sì, ma registicamente fa schifo al cazzo. Registicamente buono. No, registicamente fa schifo al cazzo. Registicamente buono, concettualmente... Registicamente fa schifo al cazzo. Concettualmente una figata. Concettualmente sì. Registicamente fa schifo al merda. Ma non fa schifo. Narrativamente fa schifo al merda. Narrativamente ottimo. Narrativamente mi scoperei la protagonista. Beh, anch'io. No, comunque... Perché... No, ne parliamo in altro video. La puttana della mia ex è uguale a quella protagonista lì. Somiglia a un sacco. Manian Taylor Joy, dici? Sì. Cazzo. È una puttana la mia ex, però... Cazzo. Adesso mi sono anche tanto sotto soddisfazione. Madonna. No, comunque, dai, non puoi dire che è un brutto film Split. No. Ma secondo me... Vabbè, allora, registicamente è inferiore a altri film di Shyamalan. Molti altri film. Sai cosa ha fatto? Shyamalan ha fatto i primi quattro che sono delle bombe atomiche. Quali sono i primi quattro? Il sesto senso. Film da Madonna. Unbreakable. Film da Madonna. Sainz. Film da Madonna. Secondo me è il suo miglior film. Non so. The Village. The Village è migliore. Dici? Per me sì, ma è abbastanza di netto su Sainz. Mi piacciono tutti i suoi film a me, praticamente, ma... Poi ha fatto merda. Ma, allora, Split è fiero e Glass ha anche, porco Dio. Glass fa schifo. Ma che cazzo dici? Glass fa schifo al cazzo. No, allora, chiediamo il video su Spielberg. Ah, sì? Chiediamo il video qui, poi ne parleremo. Allora, Spielberg, ti amo, sei... Cioè, secondo me, adesso, forse... Il regista preferito. È il mio regista preferito in assoluto di sempre. A livello oggettivo, forse è inferiore a Scorsese, a De Palma, a Kubrick e a Coppola. Non saprei. Forse. Non so, è... Da certi punti di vista. Bocce da altri... Da un certo punto di vista è il miglior regista della storia. Beh, Dio, migliore no, però comunque, in certi punti... Secondo, sotto certi punti di vista è top 3. Sotto altri è top 5 o top 6. Vabbè, comunque, è un regista della Madonna, uno dei migliori in vita, quindi c'è poco da dire. Esatto. Grande Spielberg, continua così. Bella.